In questa video lezione conosceremo il secondo modo per inserire il testo in AutoCAD Utilizzeremo quindi il comando testo multiriga che troviamo nella barra multifunzione scheda inizio in questo punto oppure sulla scheda annota lo troviamo all'inizio Allora, testo multiriga serve ovviamente per mettere più paragrafi di testo all'interno del nostro progetto Ha una gestione abbastanza completa del testo, è molto simile a Word per intenderci anzi non ha nulla da invidiare a questo Word Processor Ora vedremo le funzioni che sono numerose di questo comando Testo multirinea, eccolo qui, osserviamo cosa chiede subito la riga di comando Il primo punto e poi vedete il rettangolo entro il quale andrà a posizionarsi il nostro testo Quindi indicheremo in questo modo due entità sia la larghezza che l'altezza del nostro blocco Ecco qui, ora non ci resta altro che digitare il testo Ci portiamo all'interno del nostro riquadro e inseriamo un paio di righe Eccolo qua Allora con questa doppia freccia possiamo variare in maniera dinamica l'altezza del riquadro Vi ricordo che con CTRL A si seleziona tutto quanto il testo all'interno del nostro box Ora passiamo in rassegna tutte le opzioni del comando Testo multiriga Qui sulla sinistra ci troviamo la possibilità di cambiare lo stile di testo che abbiamo visto la volta scorsa Faccio notare che lo stile di testo è legato al singolo disegno Quindi se vogliamo condividere con altri nuovi disegni dobbiamo per forza salvarlo in un file DVT In un file modello di AutoCAD Qui la possibilità di rendere annotativo il testo Questo cosa significa? Vincolato la scala che abbiamo impostato nel nostro disegno E' un argomento molto interessante che tratteremo sicuramente più avanti in questo corso Qui sotto invece gestiamo l'altezza del nostro font Il numero che inseriamo in questo punto non sono punti di pollice come classicamente avviene in Word O in altri Word processor Ma bensì unità di AutoCAD Se noi stiamo lavorando in unità che corrispondono a millimetri Allora questo numero corrisponderà ai millimetri Quindi se voglio portarmi che so a 3 Digito 3 e do invio Faccio notare che non ho come in Word una serie già preconfezionata di valori Li devo inserire man mano che mi serve una nuova altezza del font con il quale sto lavorando Eccoci qua Poi sulla destra la possibilità di grassettare Rendere corsivo Sottolineare Invece con questo tasto creiamo una sottolineatura diciamo sopra il testo Eccolo lì La possibilità di barrare La possibilità con questi due tasti di convertire le nostre lettere da minuscolo in maiuscolo e viceversa Qui la classica finestra per il cambio del font che conosciamo benissimo Possibilità di assegnare un colore al nostro testo selezionato Che normalmente prende il colore del layer nel quale è posizionato il riquadro di testo E ora ci divertiamo con la maschera di sfondo Qual è la sua utilità? Clicchiamo La possibilità di avere una maschera di sfondo Andando a personalizzare un colore Di questo tipo E facciamo ok Eccolo qui Praticamente lo sfondo ha il nostro testo Che ci portiamo Anche in stampa Tenete presente questa opzione Se vogliamo stampare anche il nostro testo con uno sfondo colorato La maschera di sfondo ci dà la possibilità di posizionare un colore al di sotto del nostro testo Allora facciamo così Portiamoci nuovamente sul layer Stiliamo questa tendina e qui La possibilità di inclinare il nostro testo Ovviamente bisogna sempre prima selezionarlo e poi fare le varie modifiche L'inclinazione del testo La possibilità di allargare tra di loro i singoli caratteri Qui sotto invece il fattore di larghezza Portiamoci sempre su uno Portiamo tutto nella normalità Allora mettiamo questi due numeri in questo modo Vedete Poi seleziono questa combinazione Meri